Era già stato fermato più volte dalla polizia di frontiera di Domodossola, il 21enne marocchino Redax Bar, arrestato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri mentre cercava di introdursi in un appartamento per rubare. La prima volta, venerdì, gli agenti del commissario capo Paolo Maisto l'avevano fermato per un controllo dal quale risultava che sul giovane pendeva un'espulsione del questore di Palermo. Dopo averlo identificato, lo avevano invitato a rispettare l'ordine di allontanamento. Evidentemente però lui non ha avuto nessuna intenzione di lasciare Domodossola. Il giorno dopo, sabato 24, infatti, è finito nuovamente il commissariato dopo aver dato un'escandescenza in un supermercato. Nuovamente la polizia lo aveva invitato a lasciare l'Italia. La sera stessa, intorno alle 23.30, il marocchino però, sempre per nulla intenzionato ad andarsene dal nostro paese, armato di spray al peperoncino, ha rapinato la donna cinese titolare di un centro massaggi in via Venezia. La donna, finita in ospedale per essere medicata, aveva descritto il suo aggressore in modo molto somigliante al 21enne. Poco dopo è avvenuto l'arresto da parte dei carabinieri in collaborazione con la polizia, mentre cercava di rubare in un appartamento nella zona di Piazza Convenzione. La cinese ha riconosciuto il 21enne tramite confronto fotografico. Addosso aveva anche 250 euro in contanti al cellulare frutto della rapina. Oltre a violazione di domicilio e tentato furto, deve rispondere ora anche di rapina e lesioni personali. Si trova in carcere a Pallanza.